Ciao a tutti ragazzi, io sono Rowan e mi piacciono le principesse Disney. A voi piacciono le principesse? Ma certo, a tutti piacciono le principesse. La mia principessa preferita è la principessa Elsa, ma mi piacciono tutte e due le principesse di Frozen. Ok ragazzi, spero di essere riuscita a confondere a sufficienza Google e ovviamente oggi non si parlerà di quanto mi piacciono le principesse ma si parlerà di YouTube Adpocalypse, quindi ok ragazzi, così direi che va molto meglio. E allora, si parla di Adpocalypse, lo so, ne hanno già parlato tutti ma io voglio fare una cosa che nessun altro ha fatto, ragazzi sfido, voglio vedere in Italia chi altro l'ha fatto ossia voglio parlarne senza finire nel blocco restrizioni di Google perché tutti hanno fatto i simpaticoni mettendoci quella qualche parolaccia apposta io invece voglio fare la cosa opposta, cioè voglio cercare in tutti i modi di non finire bloccata vediamo se ce la farò e nel frattempo volevo farvi vedere un pochino cos'è questo filtro applicato al mio canale quindi diciamo, non vi spiego di nuovo che cos'è l'Adpocalypse vabbè dai ve lo spiego comunque fondamentalmente c'è questo nuovo filtro eccolo qua, modalità con restrizioni che si può attivare e che in teoria dovrebbe essere una modalità per i bimbi quindi tu bimbo vieni su YouTube ti guardi i tuoi video dei cartoni animati, ti guardi le tue cose e questo strumento ti blocca tutti i contenuti non adatti con contenuto per adulti e il problemino sta che a quanto pare gli investitori possono investire soltanto su questi contenuti e appunto tanti investitori per un motivo o per l'altro appunto sarebbero cercando di investire soltanto in questo tipo di video almeno a quello che si dice io non ne sono convinta però diciamo che questa è almeno la versione ufficiale e quindi fondamentalmente molti YouTuber hanno visto i loro guadagni calare, calare tipo andiamo tutti sotto al ponte ragazzi e moriamo tutti poverini di fame e quindi niente ci tenevo con questa premessa a farvi vedere perché secondo me questo è un metodo che lascia un po' il tempo che trova vediamo subito che cosa succede se io vado ad attivare questo filtro sul mio canale come potete vedere ho non dico tantissimi però un po' di video guardiamo l'elenco degli ultimi video eccoli qua tutti i miei video negli ultimi sette mesi ho fatto direi un pochino di video dai adesso attiviamo questa modalità con restrizioni e magicamente tac eccoli qua ragazzi praticamente questi sono i video puliti diciamo così tutto il resto sono i video brutti e cattivi che incitano all'odio alla violenza e a tante brutte cose quindi io ho cercato un po' di capire ma com'è possibile e ho trovato già 4-5 lacune la prima riguarda i sottotitoli cioè infatti quando voi andate su un video youtube praticamente va a tradurre quello che voi dite il problema è che non una volta su due ma due volte su due non capisce quello che tu stai dicendo si limita a captare qualche parolina qua e là e poi ti trovi il video censurato vi faccio qualche piccolo esempio allora praticamente nel video cioè io ragazzi vi giuro ci sono rimasta malissimo il coccodrillo eccolo qua il coccodrillo si vuole mangiare i miei iscritti praticamente al minuto 3.50 non ve lo faccio risentire perché ovviamente trae di nuovo bloccata quindi semplicemente vi faccio ok ve lo lascio qui in descrizione magari il link così potete andarla a vedere praticamente io stavo parlando di una cosa che non c'entrava niente e youtube ha pensato che stessi parlando di queste cioè nella traduzione praticamente c'è proprio quella parola lì e quindi tac video bloccato bloccato ah tu parli di argomenti che non vanno bene ai bambini cattiva 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 poi ma questo ragazzi è il minimo sembra che youtube abbia uno strano interesse per una cosa diciamo così un po' femminile infatti ciao ragazzi vi vorrei dire che io sono stata ore e ore a cercare sul canale questi errori la realtà è che ho aperto tre video perché non avevo voglia e questo è il risultato che ho trovato da tre video e andiamo a salire ragazzi praticamente in un altro video dove parlavo di overwatch che vi lascio sempre in descrizione praticamente io al minuto 2 e 08 parlo della russia la russia quindi il paese russia e lui ha capito che io parlassi della quella cosa che sta sotto che voi non vedete quindi vi lascio vi lascio immaginare cioè tu fai dei sottotitoli dove io parlo della russia e tu capisci che io sto parlando di quella cosa lì sotto ma non basta non basta ragazzi perché youtube è molto interessato all'argomento quindi questa è bellissima allora praticamente nel video di don't starve dov'è 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 a qua ci sono rimasta particolarmente male ragazzi perché il video di don't starve praticamente è un tutorial è un tutorial e quindi non c'è nulla di male voglio dire dov'è il tutorial eccolo qua tutorial come costruire la base quindi vi spiego come costruire la base e praticamente al minuto 3 e 25 io ho detto possono essere possono essere e youtube ha capito che stavo parlando sempre di quella cosa lì sotto cioè andate ai 3 e 25 sempre quella cosa lì versione uccellino diciamo l'uccellino femmina però ha sempre capito che parlavo di quella cosa lì ma non solo non solo ragazzi perché il peggio deve ancora arrivare l'apoteosi però ragazzi l'abbiamo toccata nel video sempre su don't starve cerco di pronunciare bene l'inglese così magari youtube capisce anche eccolo qua su questo video qua che io mi sono trovata bannata bloccata e insomma ci sono veramente rimasta male ragazzi perché ho detto ma come c'è un tutorial su un videogioco ebbene secondo youtube al minuto ve lo dico subito 025 io sto parlando di lui non lui youtube lui lui cattivo molto cattivo ragazzi non posso ripetere non posso ripetere il nome perché se lo ripeto vengo bloccata e perdo la mia sfida con youtube però appunto tedesco avete presente molto cattivo baffettini ecco lui quindi nel marasma della cosa io stavo parlando di un videogioco e youtube ha capito questa cosa qui ora capite bene che un filtro che va a penalizzare un canale in maniera così pesante soltanto perché capisce male non è giusto anche perché io ci rido sopra perché ragazzi coi due soldi che faccio da youtube sinceramente ce li ho non ce li ho vabbè non mi interessa però se penso ai colleghi magari che hanno fondato la loro vita su questo quindi loro lavorano su questo mi dispiace sinceramente cioè mi dispiace molto che loro appunto abbiano avuto un 80% in meno in alcuni casi dello stipendio cioè il loro guadagno che per loro comunque si è uno stipendio l'80% in meno quindi pensate un pochino cioè uno che deve pagarci le bollette uno che ha magari dei figli cavoli è brutta è sicuramente una cosa che non si augura a nessuno e trovo veramente brutto e triste che youtube sulla base di cose così stupide vada a penalizzare un canale ci sono secondo me varie cose dietro cioè non è una cosa nata così e in molti video anche viene spiegata bene questa cosa però ragazzi questo è uno dei problemi cioè il vostro video può essere bannato soltanto per questo le norme che io ho visto sul video di quei due sul server dicono che non bisogna dire parolacce in realtà ragazzi non è vero non è assolutamente vero e ve lo dimostro subito ve lo dimostro subito perché la prima cosa che ho pensato è a lui stavolta lui non lui youtube non lui tedesco e cattivo lui Faber Fabrizio il nostro Fabrizio ha detto sta a vedere che magari mi hanno bannato anche Faber Fabrizio andiamo a vedere quindi attiviamo la nostra modalità per bambini bravi quindi attivata salve salve salva salve salva eccoci qua allora ragazzi Fabrizio di Andrè Fabrizio di Andrè lo adoro mi piacciono tantissimo le sue canzoni dovrebbero ascoltarle tutti i grandi e i piccini però non si può dire che siano prive di parolacce quindi se youtube ha dichiarato che hanno bloccato il linguaggio scurrile non è vero eccoci qua allora ve lo dimostro subito questa è Via del Campo che è una canzone per chi non la conoscesse andatevela a sentire dedicata a una a una signorina diciamo così che fa quel mestiere lì canzone bellissima tac eccola qua è partita ragazzi vi assicuro la modalità restrizioni è attivata però questa canzone è partita e quindi questo ci dimostra che youtube non va proprio sulle parolacce ma secondo me va sul contesto e ora vi farò vedere un altro motivo per cui secondo me youtube va sul contesto più che sulle parolacce comunque ora ho dovuto bloccarla non ve la posso far sentire perché altrimenti entro anche lì vengo bloccata mi arriva la nota a casa del copyright infranto il copyright degli altri vergognati sei una brutta persona ragazzi ma chi ce l'ha fatto fare un youtuber ma chi ce l'ha fatto fare cioè veramente guardate questo è il faccino della disperazione si vede vero tra una settimana di lavoro veramente è stata pesante torni a casa ancora youtube ti fa diventare matta veramente non se ne può più comunque l'ultima cosa che vi stavo dicendo dei contenuti cioè secondo me lui non va tanto sulla singola parolaccia anche se molto probabilmente se io la dico mi blocca il canale immediatamente il video me lo blocca ma va anche in maniera più pesante su l'argomento in generale cioè lui ascolta tutto cerca di capire l'argomento e poi sulla base di quello decide se è un argomento che va bene oppure no perché io penso che sia così perché veramente di alcuni giochi che io ho portato ho visto che sono stati bloccati tutti indipendentemente dal primo all'ultimo forse semplicemente a lui non piace il concetto di fare pum capito aspettate non mimo niente con le mani perché da qualche parte ho letto anche che basta fare le cose con le mani o avere tipo la maglietta del colore rosso e lui la associa automaticamente al sangue quindi mamma mia però diciamo ecco questa cosa qui quindi anche in un contesto magari come un videogioco o una partita di qualsiasi tipo per lui è un contenuto non adatto allora come potete vedere automaticamente tutti i video di overwatch sono spariti tutti i video di life is strange sono spariti proprio nemmeno uno se ne ha salvato e al che mi sono detta ma vuoi vedere che veramente sono quelli gli argomenti che vengono bloccati quindi a loro non interessano queste cose molto semplice cerchiamo tac overwatch diva e ragazzi non c'è nemmeno un gameplay e questa è la triste verità ragazzi guardate qui c'è una ragazza tra l'altro voglio dire molto bella per carità ma non è propriamente una suora qui c'è heroes of the storm quindi un altro gioco quindi sempre diva ma in un altro gioco cioè non ci sono apparentemente gameplay quindi a quanto pare sono stati penalizzati proprio i gameplay di questo gioco guardate sono in seconda pagina anche qui c'è tutto signorine cosplay eccetera però non ci sono i gameplay quindi in sostanza se tu sei uno youtuber e vuoi guadagnare non puoi fare gameplay e questa secondo me è una cosa molto brutta perché va a penalizzare una categoria di youtuber a vantaggio magari di altre come ad esempio insomma chi fa video facendosi vedere la faccia ora state tranquilli ragazzi sapete che io non sono attaccata a queste cose fortunatamente non ne ho bisogno quindi diciamo così posso permettermi di continuare a fare quello che mi piace e dal prossimo video diremo anche un bel po' di parolacce anzi ci divertiremo un pochino con youtube visto che cioè già che dobbiamo essere bloccati almeno facciamolo per un motivo però insomma capisco anche molti colleghi che magari da questo settore cioè quando si capirà questa cosa da questo settore magari si sposteranno su altro quindi fondamentalmente chiacchiericcio o cose del genere ok allora tiriamo un po' le somme oggi abbiamo scherzato ovviamente però lo spunto di riflessione che vi volevo dare era assolutamente serio e cioè quello che io ho fatto ho cercato almeno di fare spero di esserci riuscita perché se veramente non ce l'ho fatta nemmeno stavolta allora non è proprio possibile però quello che io ho cercato di fare è una cosa che molto probabilmente molti altri youtuber cercheranno di fare perché non essere bloccati è nel nostro interesse non solo per i soldi ma molto probabilmente anche per le visite cioè se tu hai un contenuto adatto a tutti youtube ti sponsorizza più facilmente quindi fa vedere più spesso i tuoi video agli altri avrai più iscritti il tuo canale crescerà di più e insomma capite bene che è una cosa fondamentale per noi youtuber quindi fondamentalmente si tratta di una censura anche se non diretta però indiretta che verrà applicata agli youtuber quindi tutti adegui fai contenuti super friendly va bene vuoi continuare a fare i tuoi gameplay ti tagliamo fuori cioè stai lì sul bordo guarda gli altri da lontano e accontentati delle bricioline che ti tirano avete presente tipo osso e che poi sarebbero già le briciole delle briciole cioè gli altri youtuber prendono le briciole a te prendi quello che resta delle briciole che è veramente una brutta brutta immagine ragazzi bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se così fosse mi raccomando lasciate un like e facciamo così vi lancio questa sfida se vi va lasciatemi nei commenti andate un po' a vedere i miei video visto che io non ne ho voglia di farlo perché sono molto pigra andatevi un po' a vedere un po' di video guardate se c'è qualche traduzione divertente o simpatica e appunto se ci sono delle traduzioni divertenti e simpatiche automatiche appunto che è applicato youtube magari ci faccio un video insieme viene giusto una perla giusto l'ultima perla ragazzi non ve l'ho detta prima ma questa direi che merita sempre nel video del costruire la base praticamente all'inizio secondo youtube io dico che faccio la malta io mi metto lì con la cazzuola ops ho detto cazzuola ok ragazzi ce la siamo giocata sul finale da muratore mi metto lì e faccio la malta cioè vi lascio dire quindi insomma facciamo questa cosa ragazzi scrivetemi nei commenti le cose più più stupide che escono fuori dai miei video se appunto riuscirò ad averne abbastanza magari ci facciamo sopra un video apposta da Rowena è tutto e arrivederci al prossimo video ciao ciao